musica 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 che ti chiede abbastanza, non lo so, e ci incontri qui, ecco, dopo metterci ancora un po' di attenzione per queste piccole cose, però per te la sentirei che ti chiede. E poi magari anche in un'attività, in un'attività che ci succede sempre, ci sono alcune incontrate, dove c'è gente che ha avanti, qual è l'attività? Beh, noi, l'altro obiettivo è che questo, che quello di anni di squadra sia quello di arrivare in alto, e noi partiamo alla vetta, per cui, isolari o no, vogliamo arrivarci, e quindi ci sono alcune persone. Eh, sì, la stiamo aspettando da tanto, adesso siamo a meno di due, per cui sarà la solida fine, deciderebbe una prossima classifica, e abbiamo altri giorni in put, in parasa, meno male, e quindi sono sicura che saremo bene, e poi ci levanteremo tutto.